Salve amici e benvenuti anche oggi per un nuovo video, molto veloce in realtà. Video di aggiornamento su Path of Exile 2, purtroppo. Stamattina è arrivato a questo video del director e ci dice che il gioco è stato rimandato. Rimandato di poco, in realtà tre settimane. Invece del 15 di novembre l'accesso anticipato di Path of Exile 2 comincerà il 6 di dicembre. La motivazione in realtà è molto semplice. Fondamentalmente, dato che loro stanno cercando di spostare, e insomma lo faranno in realtà, tutte le microtransazioni, le estetiche, gli acquisti del primo Path of Exile, nel secondo Path of Exile, quindi tutti quelli che hanno speso tanti soldi nel primo e hanno un sacco di roba estetica soprattutto, la potranno usare anche nel secondo, ecco questa cosa gli sta creando qualche problema. soprattutto perché il gioco, già nell'accesso anticipato, sarà lanciato contemporaneamente sia su PC, su Steam, ma anche sulle console. E ci sarà la cross progression e il cross play. Quindi con un solo account potete continuare la progressione tra i vari account. e quindi dovete poter avere, se avete fatto acquisti nel primo Path of Exile, anche tutti gli oggetti estetici o accessori, eccetera, eccetera, anche nel 2. Questo ha creato un po' di problematiche, evidentemente, con i database. Pensavano di arrivarci in tempo, però lui ha preso la decisione di rimandare 3 settimane per essere sicuri di non avere nessun problema alla partenza dell'accesso anticipato. Niente, 3 settimane in più non sono tantissime, evidentemente quindi nella mia idea di giochi da portare questo mese ci sarà un buco a metà di novembre, che però ragazzi verrà probabilmente riempito da quest'altro gioco, che ne avevo sentito parlare, poi me l'avevo scortato, adesso in realtà parte in accesso anticipato, ho anche lui, insomma, in beta, è che è The Bazaar. Questo in realtà è un gioco particolare di cui vi parlerò in uno dei prossimi video che farò e sono molto interessato, inizia domani la beta, già ho pagato per il pacchetto di funding, quindi insomma. Ne parleremo di The Bazaar e sì, prenderà un po' il posto a livello di tempo per novembre per Pattovexel 2. Ultima notizia, comunque per Pattovexel 2, hanno detto che a fine mese di novembre ci sarà un mega stream evento in modo da poterci dire tutte le informazioni precise anche sui pacchetti di supporto, perché comunque Pattovexel 2 sarà free to play nel lancio, ma per l'accesso anticipato bisognerà pagare per poter partecipare. Non sappiamo i prezzi ancora, ci sono speculazioni, 20 euro, 30 euro, fino a 500 euro, eccetera, eccetera, non si sa. Ci sarà questo stream in cui ci diranno tutto e poi presenteranno anche altre informazioni ovviamente, quindi sarà una roba in pompa magna. Hanno detto fine mese di novembre, quindi penso l'ultima settimana di novembre ci sarà questo streaming. Niente, tutto qua, informazione diciamo dovuta, anche perché come vi avevo detto proprio ieri, credo, volevo assolutamente coprire Pattovexel 2 e quindi lo faremo a dicembre invece che a novembre. Non è un grosso problema. Meglio così ovviamente che un lancio ci sarà anticipato con problemi, casini, che magari ci saranno lo stesso, però meno sono, meglio è, credo. Bene ragazzi, detto quello che vi volevo dire, fatemi sapere se avete qualche cosa da dire sotto nei commenti e noi ci vediamo prossimamente per altri video qua, sempre sul gaming. Grazie per l'attenzione, satemi sempre bene, alla prossima. Ciao ciao.